Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo breve video vi spiegherò come completare la sfida dei 15 luoghi storici in Fortnite. Quella che state vedendo adesso è la mappa della prima stagione, sempre di Fortnite capitolo 2. E grazie a questa mappa potete avere un quadro generale di tutti i luoghi storici presenti in gioco. Invece di fare il classico video con una musica in sottofondo come vi ho abituato dove vi mostro ogni singolo luogo, ho preferito mostrarvi direttamente la mappa con tutti i punti. In questo modo avete la possibilità di avere un quadro generale dei punti storici. A voi ve ne servono 15 per completare la sfida. Il mio consiglio magari è di partire nella parte inferiore. Vedete, ce ne sono talmente tanti che magari solo con questa zona sbloccate, diciamo, completate la sfida. Quindi vi catapultate giù, magari fate l'issa squadre così se perdete la vita potete ritornarci. E vi fate tutti questi punti, quindi montagna dopo montagna, isola dopo isola, eccetera eccetera. Vi fate tutti i punti storici. Oppure potete partire dall'alto e scendete verso il basso. O nella zona a sinistra della mappa dove vi è spiagge sudate perché ce ne sono davvero tanti. Vi basterà raggiungere semplicemente il luogo storico. Non dovete catapultarvi, o meglio, se lo fate va bene, ma dovete solo visitare il luogo. Quindi il mio consiglio è di tenere in considerazione questa parte della mappa. Come vedete ce ne sono talmente tanti vicini che magari in una, massimo due partite, riuscite a finire la sfida. Quindi magari partite verso il basso e ve ne andate verso l'alto e vi fate anche questi. Quindi il mio consiglio è questo. Anche se la mappa è vecchia, i punti storici sono gli stessi. Quindi tenendo presente questa mappa, magari potete mettere in pausa il video, avete la possibilità di completare la sfida che vi chiede appunto di visitare 15 luoghi storici.